guarda carletto che maschera top attenzione attenzione nei prossimi mesi con super di ricarica seguiremo marco fantini e luca onestini per la realizzazione loro si sfideranno per realizzare una super pokeball diretta instagram il 24 marzo con marco e luca gli darò qualche tips diciamo per realizzare questa pokeball che si mangia con gli occhi e noi cosa facciamo gli aspettiamo iscriviti al canale iscriviti al canale iscriviti al canale ciao iscriviti al canale ma qui c'è una piccola principesse che si è svegliata iscriviti al canale puoi venirmi aiutare no perchè fino a quando arriverà bianca ho preso ho fatto un piano no perchè si è svegliata no perchè si è svegliata